71 anni fa nasceva l'Unione Europea con la dichiarazione di Schumann. L'Europa è compiuta? No. L'Europa deve essere ancora alimentata. L'Europa è vicina, è molto più vicina di quanto pensiamo. L'Europa è la provincia di Padova, l'Europa che finanzia progetti per la provincia di Padova. Uno di questi progetti è senz'altro il progetto Musmet che ci ha permesso di aumentare l'attrattività dei nostri musei e di introdurre sistemi innovativi per aumentare il numero di visitatori diversificandone la tipologia. E poi c'è un altro straordinario progetto, il progetto Samba, che è un progetto di cooperazione territoriale che ha l'obiettivo di promuovere il cambiamento delle abitudini di mobilità delle persone incentivando la mobilità sostenibile e potenziando così la mobilità a basse emissioni di carbone. E quindi buon compleanno Europa! L'Europa 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 L'Europa